Buongiorno a tutti. Come anticipato in uno short, oggi faccio la recensione della pellicola del film Waterloo del 1970 per la regia di Sergei Fedrovich Bondarchuk. Una pellicola maestosa, voluta con grande intensità da Dino De Laurentiis, un produttore che aveva in qualche modo segnato il cinema non solo nazionale ma internazionale attraverso una serie di grandi colossal. Non fosse altro appunto aveva firmato, pensiamo a Guerra e Pace, la versione degli anni 50 che in qualche modo aveva ovviamente tutta una serie di grandi opere che appunto avrebbero segnato la storia del cinema italiano e internazionale. Ed è interessante come dà la volontà di trasporre, di rendere filmico un evento così epocale della storia europea ma mondiale con protagonista Napoleone. E tra l'altro ovviamente l'interesse di questa mia recensione è anche funzionale, ha un'analisi di lungo periodo, visto il considero che fra poche settimane uscirà il film Napoleone di Ridley Scott, quindi in qualche modo è interessante anche fare delle comparazioni epocali, generazionali tra film diversi con uno stesso soggetto. Tra l'altro un elemento interessante è capire come una figura così importante ma anche così ingombrante, segnante della storia e della cultura europea, francese, europea e mondiale, possa essere stata in realtà oggetto di pochi, relativamente pochi film o sceneggiati, quindi in qualche modo avrebbe, secondo me, secondo molti, avuto la dignità di essere trasposto più volte con diverse sfaccettature. Ed è interessante come De Laurentiis, nonostante il fallimento completo sotto l'aspetto finanziario di questo film, che fu sostanzialmente un tracollo, una cosa abominevole rispetto a quello che è costato e ha guadagnato un decimo probabilmente, ha incasato un decimo di quello che è stato all'epoca investito, rappresenta comunque un elemento di virtuosismo, di pionierismo all'interno di un filone come quello dei Colossal, che in qualche modo nel 70 stava scemando. Pensiamo come i film Colossal, lo sintesi in quelli in costume, avevano una loro fioritura, soprattutto in argomento dell'antichità, biblici, storici dell'epoca antica, ma anche in qualche modo di altri periodi, pensiamo all'elemento medievale o anche della storia moderna, moderna nel senso fino al 1815 intendo, ha avuto delle esperienze, delle occasioni, ma anche per esempio dell'Ottocento, pensiamo al Gattopardo, delle grandi produzioni che in qualche modo avevano nella loro maestosità, nello sfarzo degli elementi figurativi, ma anche di un apporto narrativo, di cast di un certo livello. Bene, sostanzialmente appunto tra gli anni 50 e gli anni 60 questa fioritura ha avuto un grande successo, un grande riscontro sia nel pubblico europeo ma anche nel pubblico americano. E questo sarà molto interessante anche nella valutazione di come questa pellicola, come questa di Napoleone, possa divaderlo, possa essere stata poco apprezzata in Nord America, perché è un film tipicamente europeo, andremo a capire anche il perché. Dicevamo, Dino De Laurentiis già dalla metà degli anni 60 fa un progetto, un progetto su un film di questo stampo, tra l'altro nello stesso periodo anche Kubrick vorrebbe fare un film del genere, un film su Napoleone, ma è proprio il fallimento finanziario di questa pellicola di De Laurentiis porterà poi Kubrick a mettere nel cassetto e Kubrick non farà mai un film su Napoleone, sì farà Berylino, un contesto abbastanza affine nell'epoca, però in qualche modo non è un film napoleonico come era nell'origine, come vaderlo per capirci. Ebbene, quindi che succede? Che lo stesso De Laurentiis cerca un appoggio finanziario e quindi anche produttivo in Unione Sovietica. In Unione Sovietica dove trova Bondarchuk? Bondarchuk che tra l'altro è stato l'artefice di un altro colossal sovietico, la versione sovietica di Guerra e Pace del 67, che ovviamente somma in sé un cinema di realismo sovietico, ma in qualche modo anche filtrato da un certo cinema neorealista. Bondarchuk che era amico e collega di Rossellini, tant'è che Bondarchuk che aveva avuto una sua carriera anche come attore, come sceneggiatore, aveva lavorato con Rossellini, pensiamo a Era Notte a Roma in cui faceva il soldato dei tre soldati alleati, inglese, americano e sovietico, quello sovietico che si nasconde in una soffitta a Roma, quella soffitta di Giovanna Ralli. Quindi è interessante anche come Bondarchuk che ha avuto una sua consistenza attoriale, una sua consistenza anche nel rapporto col cinema italiano, aveva partecipato a film importanti, la battaglia della Neretva, quindi in qualche modo un elemento anche di interesse all'interno di filoni similari ma con produzioni diverse a livello di nazionalità. Pensiamo appunto come tendenzialmente pensiamo al blocco sovietico come un blocco monolitico invece vi sono delle contaminazioni e quindi Bondarchuk riesce a essere il regista di una produzione mista ma che ha una sua attrazione italiana, una attrazione occidentale su un personaggio così controverso come quello di Napoleone e non solo, ovviamente c'è anche l'elemento Wellington, l'elemento di rapporto tra Francia con l'elemento rivoluzionario, quindi ecco anche secondo me l'aspetto ideologico di una certa somiglianza seppur due rivoluzioni completamente diverse, quella ovviamente borghese, francese e quella poi russa con elementi di proletariato o comunque di elementi diversi, ovviamente anche in un contesto russo profondamente legato a un rapporto socio-economico diverso, non è una, come diceva Gramsci, una rivoluzione contro il capitale, contro il capitale nel senso contro il capitale di Marx, ecco quello che voleva dire ovviamente Gramsci. Ma all'interno di questo progetto quindi abbiamo questo elemento artistico di Bondarchuk che vedremo quanto peserà all'interno della sua realizzazione di questo film, maestoso, epico, di grande impatto visivo, sensoriale e dall'altra parte l'elemento artistico a tutto tondo. Gli attori, ah io non voglio fare una premessa, io non parlerò molto dei difetti, soprattutto storici di questo film, tre anni fa la biblioteca di Alessandria ha fatto un ottimo, un ottimo recensione, tra l'altro ha avuto un grande riscontro, come del resto tutti i suoi video, in cui ha analizzato i vari problemi, i vari difetti di ordine storico, nonostante egli abbia dato un ottimo giudizio al film, io non farò quello, già l'ha fatto lui, io vorrò fare un'analisi più a tutto tondo, più storico-artistica, analisi critica del film, quindi di un'analisi più strutturata, più tecnica dell'elemento film, che va in qualche modo ad integrarsi con quella fatta da Joel. Bene, il cast, un cast di primo piano, a partire da Rod Steiger, Rod Steiger che lo ricordiamo per una serie innumerevole di film e un numero innumerevole di film in cui egli interpreta personaggi storici veri, psicologicamente complessi, in cui Rod Steiger esprime tutta la sua arte drammatica, melodrammatica, di intensità. Rod Steiger che era un prodotto dell'acto studio con un elemento molto intenso di quello che è stato un po' lo spirito emozionale della realizzazione attoriale, a Medi Nordamericana ma anche in parte europea, e che infatti egli faceva le sue interpretazioni all'impronta molto spontanea, poco costruite, sì, nonostante egli costruisse il personaggio ma poi l'elemento di intensità veniva in maniera verace, espressa, tant'è che egli litigò spesso, anche con lo stesso Bondarchuk, per una ripetitività spesso eccessiva di scene riprese più volte, no? Rifare più volte la stessa scena, egli pensava che già alla terza scena, alla terza ripetizione era già finita l'emozione, la spontaneità di quel suo espressione, quindi egli, non dico buona prima, però in qualche modo era tale e tale ne voleva che fosse. E Steiger, che tra l'altro aveva in quei 6-5 mesi rifiutato il ruolo di Patton, che poi sarebbe andato a George C. Scott, senza polemiche, pensiamo a George C. Scott che avrebbe ottenuto il premio Oscar, rifiutato per una serie di motivi, però Steiger già aveva vinto il premio Oscar, quindi in qualche modo aveva, nel ruolo di Tibbs, quindi in qualche modo aveva già offerto una grande intensità, ma che lo aveva o sarebbe stato poi in maniera molto ferma, convinta, decisa a interpretare ruoli, come dicevo, controversi di personaggi storici. Napoleone, due volte Mussolini, in Mussolini ultimo atto e poi quello sulla guerra libica, su Omar al-Muqtar, negli anni Ottanta. Pensiamo a Ponzio Pilato, pensiamo al Capone, quindi in qualche modo Rod Steiger ha espresso una serie di interpretazioni dal grande peso, non solo come Physique du Roll, con il suo ruolo, con la sua fisicità massiccia, tormentata, ma anche attraverso il desiderio, e in questo film emerge, poi lo affronterò in maniera più approfondita, sotto l'aspetto del tormento. Napoleone è un uomo finito, ma come è finito Mussolini, Mussolini ultimo atto, quindi via una grande intensità nel dramma, la sofferenza, la percezione di come un uomo possa vedere in un attimo passare la vita e la morte, la vittoria e il fallimento. E quindi, secondo me, l'accoppiata Steiger-Bondarchuk, nonostante le possibili divergenze artistiche, c'è stato fra i due, ma alla fine il prodotto è molto interessante, perché si evince, si percepisce la grande sofferenza, la grande intensità delle emozioni, delle difficoltà oggettive, non tanto politiche o militari, ma soprattutto umane. Il richiamo al figlio, il richiamo al senso di appartenenza. Io sono la Francia e la Francia sono io, questo elemento è molto interessante, nella rappresentazione di un Napoleone che in qualche modo è partecipe delle stesse vicende del suo esercito. Non vi è una disgiunzione tra Napoleone e il suo esercito, è una sconfitta del suo esercito e la sconfitta di Napoleone e viceversa. Ecco perché quando poi all'inizio del film e gli torna in Francia è un tutt'uno con l'esercito, trova un tripudio di un bagno di folla, perché? Perché vi è l'identificazione stessa. Lui è tornato e quindi è tornato dalla Francia. Il film è costruito su tutti parti nella versione importante, la versione italiana sono due ore e cinque circa, la versione sovietica sono quattro ore e si nota, secondo me, io non ho visto la versione sovietica, ma si evince sicuramente una versione italiana che vi sono stati molti tagli nella parte finale del film. Non si percepisce molta della cronologia, della logica. Sembra che Napoleone stia vincendo, anzi no, stia perdendo, poi sembra che sta vincendo e poi perde con l'arrivo dei prussiani. Ebbene, non si capisce bene i passaggi, sembrano troppo, troppo intensi, troppo ravvicinati per riuscire a metabolizzarne e a capirne il significato. Evidentemente sono delle scene particolarmente descrittive, o comunque di raccordo tra questi passaggi che ovviamente nella versione dalle quattro ore alle due ore si perdono. Quindi secondo me questo è un elemento di criticità nella versione italiana. Detto questo, il film, dicevo, ha un suo prologo, un suo prologo che è inquadrato nell'aprile del 14, 1814, Napoleone viene indotto ad andare in esilio all'Isola d'Elba. Titoli di testa, e qui abbiamo un elemento interessante di come i titoli di testa siano anche un raccordo tra un momento passato, che è un po' nella tradizione di film che in qualche modo hanno l'elemento dei titoli di testa interconnessi, non all'inizio, pensiamo ai film di James Bond per dire che è tanto cari a questo canale, che è in un ultimo No Time To Die, dove c'è un prologo di mezz'ora, poi la sigla e poi si va a un anno dopo, o anzi in quel caso a sei anni dopo, interessante, nel film di Napoleone a circa un anno dopo. E poi l'evoluzione del film, con i cento giorni napoleonici, quindi con tutto quello che è nelle due ore, nelle due ore, diciamo, nell'ora, ore 50, ecco, ore 50 restante del film. Un film che arriva alla battaglia di Waterloo a circa un'ora e venti, quindi abbiamo gli unici, gli ultimi 40 minuti che sono concentrati sulla battaglia. La prima parte è di preparazione e di analisi anche psicologica, di analisi del rapporto dei personaggi, ma anche nel rapporto dei personaggi con quelli dall'altra parte. Con quelli britannici ovviamente abbiamo Christopher Plummer. Christopher Plummer è un altrettanto intenso attore, che però in questo film emerge con la sua tipica espressione anglosassone, con una sua freddezza, con una sua ironia, ma un elemento distaccato. Distaccato è che si vede comunque portatore di quei valori tradizionali, aristocratici, che si differenziano rispetto a quelli di Napoleone. Perché? Perché se da una parte abbiamo un Wellington che sia un rapporto anche diretto con i soldati, il soldato che ha rubato il maiale, che viene poi promosso caporale, che in qualche modo si permette il lusso di fare delle battute al duca, ma che il duca lo guarda sempre dall'alto verso il basso, con un'autorevolezza, ma anche con un'autorità che in qualche modo incude timore e incude distanza, ciò che non c'è in Napoleone. Napoleone possiamo dire che è il primo personaggio dell'età contemporanea, mentre Wellington rappresenta l'ultimo dell'epoca moderna. In qualche modo l'ultimo della ricostocrazia è Napoleone, il primo di quello che sarà l'epoca delle rivoluzioni, che in qualche modo segnerà l'Ottocento, segnerà il Novecento a livello socio-politico. Questo secondo me è interessante ed è interessante anche attraverso l'analisi della contrapposizione tra questi due personaggi e all'interno della contrapposizione, tra queste due interpretazioni attoriali, tra Steiger e Plummer. Lo stesso Plummer, che anche lui ha interpretato grandi ruoli importanti a livello storico, ricordo, aveva interpretato Rommel, seppur in una parte molto breve, nella Notte dei Generali, aveva fatto Von Trapp in Tutti insieme appassionatamente, ovviamente è un'interpretazione molto più articolata, eccetera. Ma avete fatto anche Eddie Chapman al servizio del Führer, no, al servizio del re e al comando del Führer, un film di spionaggio che non è che sia un granché con Gert Frebb, con Jürg Brinner, quindi un film un po' caotico sotto l'aspetto spionaggio, l'ho recensito ma che non è che mi sia piaciuto più di tanto, però anche Plummer con un suo portato, una sua eredità di personaggi particolarmente intensi, anche tratti dal vero. Altra interpretazione, abbiamo un parterre molto variegato tra attori internazionali e tra cui abbiamo gli italiani Ivo Garrani, Gianni Garco, ma a livello internazionale abbiamo Orson Welles, una parte del re di Francia, Virginia McKenna, anche lei un'ottrice di grande versatilità che in questo film emerge come personaggio femminile, seppur limitato nel tempo narrativo, ma molto forte nell'economia dei rapporti interpersonali e all'interno degli rapporti interpersonali con lo stesso Wellington, che Wellington sembra sempre molto algido, molto asettico, seppur alla fine del film egli esprima un certo orrore per la guerra, un certo egli ha vinto la guerra, la battaglia è consapevole di averla vinta per fortuna, ma allo stesso tempo è comunque compiaciuto da un certo punto di vista, ma è anche traumatizzato per certi aspetti nel vedere quella brutalità, il suo cammino attraverso la carica dei morti. Lo dico subito, sono un po' meno di me, mi dimentico. Il film è quindi secondo me connaturato da un grosso pacifismo, da un grosso senso pacifista, e secondo me questo è l'elemento di valore di questo film, un film iperrealista, nonostante vi siano delle difficoltà di ordine storico che dice che adesso fra un po' dirò, ma solo in parte, ripeto, per il resto andate a vedere dal video di Biblio Canale e Sande, dicevo, un film comunque pacifista perché oltre al valore della rappresentazione scenica veramente di grande intensità, un numero incalcolabile di migliaia di comparse, qui l'apporto sovietico, un dispendio economico finanziario impressionante, un film del genere in occidenza non sarebbe mai stato fatto perché appunto le produzioni in Unione Sovietica costavano poco, il fatto che vennero usate veramente decine di migliaia di comparse effettivamente dei truppe sovietiche, diciamo, con un armamento eclettico, nel senso che le prime file sicuramente sono armate e sono equipaggiate, vestite bene quelle dietro, diciamo, in qualche modo potevano benissimo lasciare a desiderare nella massa enorme, nella capacità dal vero, io che sono particolarmente critico nei confronti degli effetti speciali tecnologici della computer grafica, mi fanno venire l'orrore, ecco, è un film del genere in cui ci sono decine di migliaia di attori, di comparse, di gente che cavalca cavalli veri, che sono delle cadute vere, anche con un rischio non indifferente negli infortuni che ci possono essere stati, beh, una capacità di movimento, analitica, mobile, veramente, veramente maestosa, veramente che fa piacere, fa piacere vedere per l'elemento estetico, personalmente un elemento di arte, e in qualche modo è interessante come l'arte che imita l'arte, perché? Perché nel 1881 Lady Butler con Scotland Forever rappresenta un quadro famoso di la cavalleria scozzese che va al trotto, al galoppo, e questa rappresentazione è completamente imitata e ripresa dall'aspetto artistico, dall'aspetto del quadro al film, e quindi l'arte che imita l'arte più che imita il vero. Interessante questo rapporto anche di rappresentazione e autorappresentazione del cinema come veicolo di tradizione di tramandare un qualcosa filtrato attraverso una serie di mezzi in mezzo, di elementi in mezzo. Ovviamente ci sono anche elementi di grande coreografia riprese dall'alto che in qualche modo evidenziano la maestosità, la capacità di infondere una certa emozione, una certa, diciamo, palpare la realtà drammatica, pensiamo ai fumi, pensiamo alla complessità del montaggio, la complessità qui, c'è sicuramente la fotografia di Nino Rota che coinvolge, ma soprattutto il montaggio di Armando Nannuzzi che in qualche modo offre un incalanamento pieno, integrale, immersivo, in questa realtà molto complessa e qui sicuramente Bondarchuk evidenzia una sua intensità di messaggio, non solo attraverso l'elemento estetico, ma anche attraverso l'elemento proprio di comunicazione visiva, uditiva, cinestesica, possiamo dire, nel concetto appunto della programmazione enolinguistica, per fare un paragone con l'elemento della multisensualità. Ecco, questo aspetto è sicuramente molto interessante nell'analisi di questo discorso, quindi vediamo la realtà piena, interna, anche attraverso, secondo me molto efficace, non solo grandi capacità di fotografia e di immersione con tante telecamere che in qualche modo ci pongono i controcampi dall'alto, dal basso, dallo sbilenco, eccetera, eccetera, ma anche una qualità spesso non perfetta delle immagini, elementi sfocati, elementi tagliati, elementi appunto che hanno ostacoli, i cameraman che in qualche modo hanno avuto ostacoli, questo secondo me è un elemento interessante, molto televisivo, ma secondo me che evidenzia la presa diretta, la presa sì di grande costruzione artistica, scenografica, ma anche un tentativo di non banalizzare qualsiasi elemento, quindi in qualche modo non c'è un'artificiosità, è un'accuratezza nel cercare il più possibile di essere realistici. Poi per carità ci sono elementi che in qualche modo stonano, ci sono dei difetti dell'uniforme, ci sono dei difetti sul fatto che non c'è mai un soldato che carica il fucile, sempre a ripetizione, a tutto spiano, il fatto che le palle dei cannoni esplodano e non rimbalzino, elemento che secondo me era importante anche per l'analisi, e qui nel discorso del fango, il fango come elemento importante nella decisione delle sorti della guerra, come l'artiglieria francese che aveva un suo potere offensivo impressionante, ma che era creata, come si dice, era limitata dalla presenza del fango, tra l'altro venne creato quintali e quintali tonnellate di fango in maniera artificiale, la situazione, i genieri sovietici in Ucraina dove venne girato sbancarono completamente anche delle colline per rendere piano il territorio, venne fatta veramente una quantità di fango artificialmente per creare la scenografia, e tra l'altro è interessante come la presenza di tutto questo fango non si percepisce come decisiva per l'esito della battaglia, questo è interessante, quindi nonostante tutto questo elemento probabilmente nel taglio dai 4 alle 2 ore si perde l'efficacia, la causa di questo fango come elemento che porterà alla sconfitta Napoleone rispetto a se non ci fosse stato. E sicuramente nello svolgimento della storia, non so, lo spettatore medio parteggia per Napoleone, cioè sa come va a finire la storia, però in qualche modo ci crede, pensa sempre ma vuol vedere che vince, vuol vedere che in qualche modo ce la fa, perché la situazione si sta mettendo in questo senso, poi ovviamente la storia va in un altro senso e sappiamo che la sconfitta è per Napoleone, per una serie di motivi che possono essere appunto di fortuna, Wellington sicuramente non più fortunato, ma anche l'elemento della stanchezza fisica e morale di Napoleone e dei suoi soldati, quindi in qualche modo la grande armée, anche la vecchia guardia, è stanca, vediamo il soldato interpretato da Checchi, quindi che comunque è attempato, quindi abbiamo anche un elemento che nonostante il grande sforzo, il grande slancio dell'ideologico rivoluzionario delle truppe francesi però in qualche modo risentono dei tanti anni di guerra, delle tante energie spese, dell'esaurimento magari delle migliori truppe che sono state perse nel corso degli anni, dei decenni di Napoleone. E quindi è interessante questo aspetto di analisi complessiva, un elemento artistico, scenografico, ma anche ideologico, ma anche di rappresentazione e sappiamo come negli anni settanta, un elemento interessante nella rappresentazione della guerra, abbiamo spesso detto come gli anni settanta sono un po' in fase calante nella narrazione bellica, soprattutto nella seconda guerra mondiale, perché? Perché c'è il Vietnam e quindi secondo me è un elemento molto interessante anche nel rapporto della percezione del cinema con la guerra e nella rappresentazione del significato della rappresentazione stessa della guerra, quindi ecco secondo me un elemento che non è tanto pacifista quanto di riflessione sulla guerra e sul significato della guerra, sul significato della perché si fa la guerra, qual è il valore di una sconfitta o di una vittoria e appunto l'elemento anche di organizzazione, di carica emotiva, quindi ha perso Napoleone, ha vinto Wellington per una serie di motivi che non è importante andargli a capire poi alla fine, è importante però sapere che ciò è avvenuto e quindi viene anche questo scontro un po' di civiltà, quello che dicevo, interessante come me la sono segnata, Napoleone dice l'unico nemico che temo è la natura, quindi è l'elemento anche di rapporto tra l'uomo e le forze soprannaturali, mentre dall'altra parte Wellington dice ci tengo ad avere degli uomini ben vestiti davanti al nemico, ecco come non c'è solo un esercito o più eserciti contro un esercito, ma c'è una ideologia culturale sociale di fronte a un'altra ideologia, quindi diventa non solo uno scontro tra nazioni ma uno scontro anche tra civiltà, potremmo civiltà nel senso la cultura tedesca per capirci, una civiltà contro un'altra, un elemento di grande intensità nel rapporto delle idee e delle motivazioni storiche che in qualche modo portano l'evoluzione o l'involuzione dell'umanità e quindi della storia dell'umanità. Mi sembra che grossomodo di aver detto quasi tutto quello che volevo esprimere, un film che sicuramente mi è piaciuto, che mi ha dato tante emozioni ma soprattutto anche per il rapporto della rappresentazione scenica, quindi potrebbe essere un film sicuramente un po' datato, con alcuni errori sicuramente, che però sono errori peccati veniali, non li trovo particolarmente rilevanti nel giudizio che offro di questo film, quindi in qualche modo mi sento di promuoverlo con un voto pieno, direi un notte e mezzo, in cui un film che sicuramente ha ancora dopo 53 anni una fortissima carica emozionale, una sua ricchissima carica anche emotiva nella sua evoluzione del racconto di come il cinema è stato e non è più, perché appunto oggi basta ne prendi uno e lo ripeti per 10.000 e hai fatto un esercito, io penso a un film di 15 anni fa, Willy Wonka, quella fabbrica cioccolato, quello di Imbarto, un Oompa Loompa e ci hanno fatti 50 Oompa Loompa, mi farà brividire, a me veramente farà brividire, mi rendo conto che l'evoluzione cambia, però se vedi dal vero una carica di 5.000 cavalieri con 5.000 cavalli che cadono e si vede che cadono veramente con un elemento portante di scenografia, di evoluzione, di movimento, di aspetto artistico, beh è tanta roba rispetto a quello di una computer grafica che si vede che è post-it, che in qualche modo è fine a se stesso, io sono un po' di vecchia scuola quindi in qualche modo mi emoziono ancora con film dal grande impatto emozionale, questi colossal che sicuramente costavano tanto, che sicuramente è stato un fallimento, tanti di questi film hanno in qualche modo anche creato grossi problemi finanziari per una difficile recupero, pensiamo poi a quell'ultimo ponte di 7 anni dopo, a Richard Attenborough che farà un film colossale, con un cast inenarrabile, lungo e costoso come la guerra di finire qualcuno, ebbè non sarebbe mai, forse in tempi recenti, recuperato l'investimento fatto nel 77, ma secondo me era un cinema con la C maiuscola rispetto a tanta pacottiglia che si fa in tempi recenti, adesso vedremo un po' il film di Scott, cosa ci offrirà, ma il paragone probabilmente verrà fatto, perché in qualche modo è sicuramente di confronto rispetto a un cinema, vecchio stampo, con una sua concezione forse un po' arcaica, però sicuramente molto emozionale, molto artistica, forse anche pittoresca nella sua rappresentazione, un elemento un po' kitsch per certi aspetti, ripeto, l'arte che imita l'arte, però veramente si sentiva l'elemento di coinvolgimento, di traino, di a tutto tondo, di una battaglia che in qualche modo ti immergeva, io non lo so, magari un giorno vedrò la versione sovietica di 4 ore, magari il russo, però sarà una brutta, non una brutta, una difficile prova, però secondo me quel film potrebbe rendere ancora di più una realtà così immersiva, così elemento di grande inclusione. Bene, detto questo, spero di aver detto tutto, io mi ero fatto tanti elementi anche nell'analisi del costrutto psicologico, l'elemento appunto, dicevo, dei due personaggi così diversi, così apparentemente alternativi, ma che in qualche modo sono le due facce alla sesta medaglia, poi potrei fare tanti commenti, il ballo iniziale, quello che assomiglia molto al gatto pardo, altre scene che in qualche modo ci richiamano a una cinematografia un po' di Kubrick, oppure pensiamo ai primi piani degli occhi che sono molto simili a Sergio Leone, ma anche lo stesso Kubrick, come Rod Steiger avrebbe fatto giù la testa con Sergio Leone, quindi in qualche modo abbiamo degli elementi di contaminazione tra generi, artisti, e vediamo come Bondarchuk rappresenta un anello di grande congiunzione tra il cinema sovietico e quello più occidentale, europeo, tra tutti quello italiano. Dicevo, un film interessante, ecco, me l'ho ricordato, un film che è poco piaciuto in America, un po' più unito da me perché probabilmente è più legato a un elemento di colossal continentale, uno stile più psicologico che negli Stati Uniti forse in quel momento forse non si usava più, era passato, adesso già, dopo il 68 già gli Stati Uniti erano portati a un elemento di diversa psicologia, più legato a temi, pensiamo a quelli sul Vietnam, ma anche pensare alla nuova Hollywood, pensiamo ai vari George Lucas, Steve Spielberg, Brian De Palma e in qualche modo altri personaggi del cinema, autori, registi, cineggiatori che in qualche modo avevano un loro concetto completamente diverso rispetto a un canone classico, rispetto appunto a un elemento come quello di Bondarchuk che rappresentava forse un'epoca in declino ma che secondo me aveva ancora alcune cartucce da sparare e sicuramente questo film le ha offerte. Detto questo io vi invito a mettere mi piace, iscrivetevi al canale e alla prossima e prossimamente faremo una recensione anche di Napoleone di Ridley Scott. Ciao!